Nella settimana in cui la Giunta regionale ha presentato il masterplan dell'edilizia sanitaria, includendo i fondi del PNRR che andranno a rifocillare gli oltre 900 milioni previsti per le strutture ospedaliere delle cinque province, l'opposizione in Consiglio regionale continua a stigmatizzare le falle del programma per quel che riguarda gli interventi auspicati nel Pesarese. Nonostante le rassicurazioni della maggioranza, l'ex complesso psichiatrico San Benedetto continua infatti a essere evidenziato dal consigliere Andrea Biancani come una retromarcia su un percorso avviato di fondi promessi. Retromarcia che ora pare allargarsi alla prospettiva di realizzare un centro regionale per l'autismo nella città di Pesaro. Un centro che è promesso da cinque anni con fondi già stanziati e che dal 2019 ha visto l'individuazione nei locali dell'ex scuola materna fra via Vattielli e via Alfano nel quartiere di Villa San Martino. Locali tra l'altro di proprietà già dell'Asur. Un'area per la quale il comune di Pesaro si è reso già disponibile ad una variante urbanistica per provvedere alla demolizione della struttura esistente ampliando i locali nell'ottica di un centro diurno residenziale o di sollievo. Secondo Biancani però le ultime intenzioni della regione sarebbero quelle di realizzare in quegli spazi una centrale operativa territoriale non sfruttando i fondi PNRR nella maniera auspicata. All'inizio avevamo previsto di utilizzare questi fondi per recupero dell'ex manicomio ma la regione ha fatto una vera e propria retromarcia. Poi in questi giorni è emersa la volontà di realizzare una centrale operativa territoriale detta Cotte all'interno appunto degli locali di via Alfano. Io ritengo che questa sia una scelta assolutamente sbagliata perché spendere soldi pubblici su un edificio che è già stato destinato e già stato individuato per realizzare appunto il centro per l'autismo da una parte vuol dire buttare via i soldi dall'altra vuol dire mettere in discussione e quindi proporre dei dubbi rispetto alla volontà vera di realizzare il centro per l'autismo. Per questo ho presentato appunto un'altra interrogazione dove chiedo se è vero che la regione intende realizzare la centrale operativa nei locali che sono stati individuati per il centro per l'autismo. Mi auguro ovviamente che questa notizia venga smentita e dall'altra parte chiedo però che punto è la progettazione.